di cosa non è riconoscenza ciao corvo la cosa di conduit e revenant vale leggere le patch notes conduit non puoi più shieldare revenant quando revenant è in ultimate però vabbè che ti frega da main conduit non ti dovrebbe importare troppo perchè al massimo importa i main revenant perchè conduit è comunque una delle leggende più sbroccate del gioco può shieldare tutti gli altri quindi ci ha rimesso solamente revenant secondo me ci ha rimesso molto più revenant di conduit, conduit è comunque fortissima fanculo cioè dalla team comp togli revenant e ci metti un'altra leggenda e fine conduit può shieldare uguale era troppo forte come cosa si appunto per questo l'hanno nerfata carta dice di no che non era troppo forte no eri incoglionito non era troppo forte letteralmente il 99% dei team nelle ranked le usavano la comp revenant conduit dai cioè tanto che l'hanno nerfata che è una cosa che non hanno mai fatto cioè non hanno mai nerfato un'interazione tra due leggende come hanno fatto con revenant e conduit proprio e l'hanno fatto perchè questa era troppo sbroccata e cioè era sbroccata cioè revenant che ti va in ulti e conduit che ti shielda revenant mentre è in ulti dai cioè arrivavo ad avere quasi 400 hp effettivi durante il fight nel senso era un po' too much io ero pieno di robe e volte che clippavo che in 1v1 contro revenant non missandogli neanche un hit gli cacciavo un figa 300 danni non crepava contro revenant shieldato da da conduit ti affidi più ai random che a me farei la stessa cosa si esatto guarda Paul Shedman come fai a non affidarti a Paul Shedman in Horizon in verità si edo non dire bugie c'è il crossplay quindi può se gioca con uno da play cioè può entrare in lobby non può trovarli randomicamente non può incontrare randomicamente ciao i zi che poi ho pensato che visto che ho messo yt maiuscolo forse è simor cioè tipo yt simor però i zi è molto più bello quindi io reworkerei il nome se fossi in te prego questo è il tuo campione campione avendo vinto la team latino 4 molto male promette malissimo mai male quanto i random che abbiamo beccato oggi e i g-shad quanti game hai fatto con random? due game primo game il random aveva 76 danni secondo game ne aveva 0 non ho visto il tizio ma niente di interessante ha le 20 bombe però può voler dire qualsiasi cosa le 20 bombe ormai c'è da chiunque quindi rampage mastiff qui c'è un r301 il mio preferito ottimo a breve e a lunga distanza posso andare al centro sembra libero io ci sono giù e io vado da questa parte perché non ho armi decenti lui è nato da loro 45 secondi alla chiusura dell'anello bella per lui dai io serio prendo il cazzo dai sta tornando indietro sto a dire rampage e mastiff md6 mastiff triple take ovviamente non mi rompe cazzo shrivel ovunque ma possiamo diventare blu si andiamo punti e cazzo la leggenda che stai usando non è tipo lifeline 2.0 no questa cura gli scudi lifeline cura la vita sono abbastanza diversi rifornimenti extra da questa parte beh 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 è al star con 40 colpi guardo anche cosa c'è in sta casa che se c'è un'arma decenta ci sono due armi decenti se ne vanno ok su bro l'ho 18k 18.500 tipo per ora sono blu anche loro non mi rompo il cazzo aspetta è arrivato qualcuno da me mi sa è l'altro tipo non sono loro si fa i ta ah beh ok allora posizione nemica rilevata guardate le mappe c a a c g o g o g o 40 se fra g o quello lì sotto non è riuscita eh ora vedo minchia eh mi sa di no però si è buttato nella lava uno ho preso quello sotto che dicevi non è messo per niente male per niente bene ma l'ha preso mi sa o no io non vedo nessuno nella lava è qua fu la destra è fu la destra ah qua c'è un muro di Newcastle è lì è lì cioè dietro al muro è lì nell'angorino ah minchia cazzo non l'avevo visto sennò pegliavo pure io il punto vabbè cazzo da dove salgo ah lo prendo io vabbè ho il volt tanto andiamo lì ricarico 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 g g ah ah qua ricarico avvistato laggiù ah madonna madonna sono qui dietro che saltella sparami quanto vuoi ho sei batterie ah se invece di romperlo se invece di romperlo avesse sparato insieme a me l'avremmo noccato ma in due si ah si sono solo due sono solo due eh io ho pure distrutto un gibraltar se sto scemo avesse sparato con me invece di rompere la torre che poi che cazzo ti metti a rompere la torre in due si ok ma è baluno a piazzaro mi prendiamo hanno appena finito la zima mamma mia sa mamma sa il mio dio il gotto dove sono? ah qua che corre in open si è lui marra buonissimo il ho fatto 60 all'alto e lui l'ha craccato a a g g a di shield a g peccato cioè mi sono perso un botto di punti ah vabbè ho due partecipazioni anch'io qua l'ho distrutto e il nostro mi sa un po' di meno anche a sinistra anche a sinistra si lo so che coglione quasi che alcun altro eh ma ci leviamo andiamo a scaio a crattare dai ma si no ti prego non ora però zio non riesco a capire se non riesco a capire se stavo andando avanti o no perché cavolano quanto cazzo è veloce il bloody ma da mia pro sta capsula support quanto ti manca la viola? cento avanti se prendi quella roba lì ci arrivo ti vado a prendere sì non la prendi? sì vado lì poi mi metto balloon tu vai a skyhook diretto mi prendo qualche secondo per ricaricare gli scudi e come mi potresti spiegare la ulti della leggenda che usi la ulti di conduit praticamente butta vabbè quando la piazzo lo vedi butta tante piccole batterie che creano un'aria attorno e se i nemici ci vanno vicino prendono danni prendono pochi danni prendono 10 per ogni seconda però è utile per bloccare le zone perchè è molto grande e dura un sacco di tempo quindi non ho accessori per la cara qui ma infatti izzi devi chiamarti izzi non cyborg cioè izzi best nome izzi faccio lo scan gg oh oh quindi qua non abbiamo nessuno ma lui è un pazzo lui è un folle mi fai ne ha due ne ha due infatti cavolo ci vado allora minchia no ti prego se mi esplode questa addosso fa porco diaz ti pare ah ma sono lontani no ho lasciato uno di vita alla lifeline ho lasciato uno di vita alla lifeline uno di vita anche all'altro ho lasciato entrambi one shot niente uè uè l'ho coltito uè uè l'ho coltito uè uè l'ho coltito uè l'ho coltito uè l'ho coltito c'è gente che conta gia gia oh oh comunque blodi troppo forte grazie davi per la risa bui rodi troppo forte qua tipo non avremmo pushato se no se non avessimo saputo che erano due io non ho buff ria ne ho due te li mollo io però mi sa che è meglio fare il giro di qua ma non lo so ma è meglio fare il giro mi sa perché qua sono camperati sopra la torre e sono anche in safe quindi non ci fanno mai passare ma a parte che avevo lasciato delle altre batteri lì non è anche due con i random un random solo fattibile erano in streak mi pare di ah si abbiamo vinto l'ultimo ah ah si è vero che abbiamo fatto più 213 padre di tutti gli dei concedimi la vista questo sentiero conduce al nemico lo coglieremo in operazione cavolo potevo craftare non lo farò più ah minchia non ho ricaricato l'amp che bella conduit basta cambierò mai più beh oddio Edo non solo cioè in ranked è difficile che gioco con gente a caso io li spiego dietro che questo sta pushando tutti gioco con gente che conosco capsula assistenza in arrivo nemico individuato nemico nei paraggi minchia ma potrebbe un attimo eh a me sta facendo anche un po' più di sto laggando un botto per il cavolanno ora quindi mi sta facendo delle puttanate assurde perché ce l'ha e appunto e anche a death e anche qua un altro team vuole morire morire ma mica poi ho paura che in open mi becco il cavolano e mi stompano top 5 fatto 2 top 5 di fila cazzo è vero il c meglio su conduit ho giocato tutto oggi senza attivarlo boia cane si è vero adesso mi ricordo a fine partita è vero è vero è vero è vero tutto oggi minchia ho giocato tre ore senza attivare il c meglio su conduit minchia vabbè dai ho capito vuole paetarli penso hanno la red e hanno l'emlock ehm consiglio il balloon eh ma bella balloon se hanno l'emlock ehm non l'ho postato noc uno colpito poco noc due è andato sul top dove serve un lift su oppure braaaaavo Dove cazzo è andata sopra ancora? Ma cazzo ma tu hai rinoccato quello full, no? Che palle sta troia di Horizon, ragazzi! Knock? Madonna che noia Horizon! Che pisallo che gli ho dato! Sì, ma che poi io pensavo che il secondo knock l'avessi preso sulla Ori che le avevo fatto tipo 110, invece avevi rinoccato l'altro. Se no avrei... Faccio da ancora più aggrossi. Che dire. Questo mi serve? Eh cazzi da lì su eh. Beh qua siamo safe anche. Eh ma top 3. Questo qua. Eh da lì su cazzi sì, vorrei... Uh un è sceso! Per pushare? Sì. Il top è libero. Sono pushati, sono pushati. Infatti avviciniamoci push con un'uncata. Ho aiutato un 25 flash. È noccato uno, è noccato, è noccato. Eh sì. Mi fa il TP. Qua a sinistra mi sembra di averli sentiti. Qua da me è il TP. Manca qui. Ti ho shieldato. Crac, crac. Crac, crac. Ah ma stava lì dietro con l'accocciato. Dio G... Non l'ho neanche visto. Oddio. Che bello. Bravi. Grazie Edo. Edo... Che fattivo. Bravi. Edo è l'attipo che fa. Che scrive sull'ansia. Ah bravi. Let's go, let's go. Bravo ultimate. G, 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 G... Paul Shedman. Best Horizon Meade. Però vedi, tipo sto game su... 11 kill, 0 diamanti. È appunto. Quindi pensi che da... Io secondo me da D4 un minimo cambio. Sì, qualcosa cambierà, sì. G, G, G. Devo attivarmi il C meglio, è vero? Codo finalmente. Katara 1. Edo avrebbe fatto tanto quanto random. Il random è stato veramente bravo. Paul Shedman. Ma tanto se c'è... Se vieni un game e poi... Stacca... Arrivo diamante. Ah è vero Edo. È vero. Ma a parte che adesso può giocare platino con argento. Ehm... Sì. Sì? Ah sì, platino, oro, argento, sì. Due rank di differenza, sì, è vero. È, è... Tra un game... Raiga fa il diamante Edo, quindi non potresti più giocare. Wake up, wake up. No, ma perché lui arriva oro, mi sa. Perché a lui manca poco per l'oro. No, no. Godo. Madonna, stasera... Ragazzi, qualche pro di Brawl Stars. Mi scriverebbe adesso in chat la build migliore per Mr. P, per favore. Che devo vedere quale gadget Star Power prendere. Grazie. Eccomi. Non giocare Mr. P. Quajural. Quiz. Mr. P. Brawler di Brawl Stars. Il suo nome è palesemente abbreviato. Ok. La P di Mr. P per cosa sta? Mr. Pinguino. Mr. Pedofilo. Mr. Pelè. Mr. Pallone da calcio. Qual è la risposta corretta? Ma perché vuoi giocare Mr. P? Mr. Pisellone. Voglio giocare Mr. Pisellone perché è un Brawler's mitico e pushandolo faccio la maestria e ottengo le ricompense della maestria. Non ha senso nemmeno segnare i punti. Mr. Paolo Montero. Bello. Atterriamo qui? Che ne dite? Eh vabbè ma perché così poi è un Brawler's mitico. Io voglio portarli tutti a rank 20 per ora perché visto che sono molto indietro di pop e non ho tanti Brawler me li faccio tutti a rank 20 e poi vedo... Ah attacchandoli! Iiiiio! Sono tutti atterrati in tutta la partita. Eh... Lì. Uscio tutti i rank 20. Puoi vedere un solo team ma lì è tutto preso, è tutto preso lì, è tutto preso. Ah davvero? Eh, è un po' sponto facciamo. Ma minchia. Cioè erano lendati già due team. Quanto sto raggiando. Erano lendati già due team... Stanno già sparando. Oddio adesso non so se era tutto preso, non sta. Infatti ci vado dopo che lo trocco. Mezzo che è già per partirei eh. Eh, vado a prendere qua perché io ho un Brawler e basta. Una conferma. Un minuto. Un altro knock. Vabbè tanto poi con Convict arrivo rapido, rapido. Anzi prendi punti. Diventiamo blue. Diventiamo cordon blue. Nuovo livello. Ora devo scegliere un potenziamento. Potenziamento attenuto. Allora sto vicino a me. Prova da imbushare ma dovete subito venire. Forse già vanno di vano, non so. Ma minchia. Qualcuno sale da voi. Vengono da voi direttamente. Mi hanno schippato. Sono tutti da voi. Preso uno. Bello. Ma era ballistico. Sono lato con lento solo per poi visto che era ballistico. Versaglio eliminato. Belle uccisione. Ho distrutto lo scudo a quel nemico. Mi stanno spaventando. Ah sono a terra. Bel colpo però. Ehi. Esco. 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 Anche abilità stellare Apexitl. Molto 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 bene. Bello start. È proprio uno start da platino 1. Padre di tutti gli dei. Concedimi la vista. Questo percorso ci condurrà a neerco. Andiamo. Potremmo stare andando. Una cosa che mi dà fastidio di Conduit. È che hanno. Zio porco. Hanno nerfato tutte le robe di Conduit. Tipo che gli hanno nerfato il tempo di attivazione della tattica. Il tempo di durata della tattica. Il tempo che ci mette a riprendersi dopo che hanno sparato. Per cercare di nerfarla. Non ce l'hanno fatta e poi le hanno disattivato l'interazione con Revenant. Allora zio. Ora che avete disattivato l'interazione con Revenant. Ridatele indietro le robe di prima. Cioè perché quelle cose comunque gliel'avevano tolte. Per cercare di nerfare l'interazione con Revenant. Senza riuscirci. Poi le hanno nerfata direttamente. A sto punto zio. Ridatele le cose di prima. Visto che avete disattivato completamente la roba su Revenant. Che almeno è più forte con le altre leggende. Mi ha pingato una batteria gridante. E ma ne ho sei. Quindi. Stanno arrivando mi sa. Boh. In quella direzione lì. No non penso arrivino. Dov'è. Beh lì c'erano i punti. Qui sono i punti. Era zona calda. Vado a vedere. però. Minchia. Eh ma l'equipaggiamento dei danni. Che tanto? È solo sotto al 50% di vita. Vedo che tutti lo consigliano sempre su tutti i brawler. Ma è buono. Cioè alla fine è sotto il 50% di vita. 15% in più. Beh sicuramente su qualche brawler è buono. Tipo su Angelo che iniziando a caricare il colpo stoppi la rigenerazione della vita. Quindi lo puoi sfruttare bene. Però boh su altri brawler secondo me c'è di meglio. Cioè per dire l'ho messo pure su un'ita. Mi sembra. Però non... 30 secondi. No no non è vero. Su un'ita ho messo il gadget in più. E vabbè l'orso potenziato. Ho avuto paura nello scendere qua sotto. Andiamo da quella parte. Un momento sto creando qualcosa. Sto bene niente paura. Corri, corri, corri Pioggia di neutralizzatori Dai ne ho colpito uno Ne ho colpiti due Ne sono due team di mardo Ah Cazzo Ah controllo termico abbiamo craftato entrambi Sì Epp Eh oggi no collezionista Che devo Che ho attaccato Apex molto tardi Faccio full Apex Che bello avere il Cimelio Eh peccato non avercelo qua perché È loot per metà Faccio balone vado A craftarlo io a campo di ricerca Eh ti faccio lo scan Sì vado a craftarlo col balun Che poi torno con la mia abilità No Vigito Immagina fare questa cosa per un random Top gioco di squadra Top 10 giochi di squadra italiani E ci sono morto per farlo Vabbè dai Ma come Cioè com'è che sono arrivati a piccare a bordo Se gli fa campo di ricerca Cioè non penso che abbiano visto il crafting da lì Nel senso Li sento eh Sinistra qua dietro qua dietro E' entrato uno E' entrato uno lo prendo Ora ho lo scan E' l'ultima Arriva un altro team Da sud Dobbiamo girare per di qua per forza One ass Fra Che cazzo vuoi Che sei andato a terra due volte facendo zero danni Non ti lamentare di niente Boh forse si lamenta che il terzo lure era one shot Però stava l'altro team Cazzo vuol dire Che vuole Ma sei sicuro ci fosse l'altro team Sì sì stava arrivando Stava arrivando E allora Beh buono non so se se ne è andato Boh Secondo me lui deve stare zitto Che due fight che fa zero danni e va a terra Non si può lamentare Nice GG Vabbè non lo responiamo Sì sì erano arrivati C'è i passi qua Eh nice GG Mazzica Oh va a terra due volte Fa zero danni Nice GG Ok Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Eh purtroppo questo è la torre L'altro dove l'hai confermato Che hai visto Ah il beacon Ok Cringe Ah tu ok Non mi pensavo lui No no io a lui Why you don't trust Fratello Lasciaci Mettere il beacon E dire siamo Why you don't trust No ma lui intendeva il Prima Il porco di due Non mi mette il Tieni cercate un posto dove mettere sto beacon di merda Mi sto prendendo qualche secondo per curare Trasmettitore di rientro posizionato Ah why you don't trust Se arriva un altro team Ratello Scriviti che c'è l'alter party Che una race si sveglia Purito Mi dispiace pure che pensa che non lo volessimo restare No Sono morto Ah posso Mi prego Pure a sinistra Parca brava Fa partire a zoro Sono tutti da segno Provo a fare uno skip a destra Sti cazzi di lui Eh sì lo so Un conforto Minchia poi piange di nuovo Ora piange di nuovo Stanno a sentire Quasi graffuno vai 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 Ora già lo sento che piange di nuovo Zio Vai sì Vai dai way Ah Paglio d'occhiare Dai sei zitto Manco avessi fatto chissà che prima Vabbè io sono morto Scappa tu No 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 Non m'aveva visto Che fallo è tornato Ehi Gshadow Questo Gshadow Il nostro terzo Sempre a terra Vabbè top 5 cosa Sì sì la top 5 l'hai fatta Infatti Va bene così Oppure più 70 Mi se ci moriva anche solo uno Beh beh oh 500 danni Minchia pensavo avesse fatto molto di meno Il got Best random Eh io più 77 Sono a una partita da platino 1 Streak di top 5 e 3 Let's go Sì comunque alla fine è vero che il third party se n'era andato e lui era restabile però Come cazzo lo sa A saperlo prima che sarebbero tornati indietro Un ruk Eh dai buoni random per ora Rispetto a sto pomeriggio Sto pomeriggio minchia No forse tre partite abbiamo fatto con i random E questo cos'era la seconda? Ah sì ne abbiamo fatte tre con i random sto pomeriggio Perché ne abbiamo fatte due in cui abbiamo perso punti E poi abbiamo fatto la terza in cui siamo andati in positivo E abbiamo fatto secondo posto Quella che Gshadow dice che non è vero che l'ha trollata lui però Come procede? Ma molto bene Siamo a più 350 in due partite Più 350 in due partite con i random Muy Muy bien Dai contando che l'obiettivo È finire Diamante Fattibile Sarebbero altre tre partite Fatti così Gravolan Eh tre partite Fatte bene Anche secondo posto dai Ah no tre win è vero perché dobbiamo fare 300 punti per tre volte Vabbè tre win No Non sono 900 da platino platino 800 Sono 700 un po' No 800 Eh? 800 sono Vabbè dai se manteniamo la streak di top 5 è fattibile Cioè anche facendo magari non vittorie ma un po' di top 5 di 3 Octane Skin arachnid e skin molto mid Avrà preso lo starter bundle Infatti Molto mid questo teammate Cioè arachnid è proprio la definizione di skin mid Eccoci Perché Eh Ho più diamante 2 Let's go Arachnid e skin mid perché non è da evento collezione Non è da shop speciale Stava come starter bundle 20 euro skin Più mille mole Eh lo so che non esiste più il bundle L'avrà preso ai tempi O magari l'ha presa quando è tornata nello shop Andiamo in fondo? Andavano loro in fondo Mid skin Andava di moda in stagione 4 Tipo Oh oh Ah carem block Easy edo Facile Anch'io carem block Il got Rifornimenti extra da questa parte Qui c'è uno zaino Livello 2 Sono l'equipaggiamento e l'attività A determinare quanto vali Ora che lo metto da parte Prima vittima Il tempo è dalla nostra parte Eccoci qua con quell'arme di merda Infatti ho preso l'ombo apposta Perché l'ho fillato Che loro avrebbero avuto armi simili Mi capociò? No no Ne ho anche craccati due E' un pazzo Si Cioè se prendo un altro paio di crack Uno è terzo Uno eh Ah minchia Eh peccato non lo picco Andate 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 Hanno lifeline eh L'ho preso lei Ah god Stanno già rissando Preso il mirage full Manca la lifeline Sta panno da sotto E' così Quello è Un nemico di tutto Ottimo lavoro Che si Bravo fire Si ma brother Non ti puoi duttare tutto Mannaccio Ma c'è qualcosa Diamo un'occhiata a quella capsula assistenza GG Oh oh Potenziamento ottenuto Finito Che bello il lombo Mod canna Eeeh E a lui se ne frega Che cosa deve capire E invece serve una canna Eh che c'è la mod canna in quella qua Ah Secondo me no Non lo capirà Mi serve la carabina ha detto L'ho detto io Ah Ups Io giocherò l'hombo car Mi servirebbero anche Lo stato leggero Anzi Scherzi Lascio quello leggero Caricatore leggero Ma e Perché Cosa Sul car No ho svuuppato il car per il flat lane Sì che non mi sei Uh grazie vi ribò Per la resab Ribò quando iniziamo a runcare su brawl Qui c'è un caricatore leggero Qui c'è un caricatore leggero Sceso Livello 3 Togli quel mirino dal flat No bellissimo C'è il 1 per l'avrei tolto Ma ora lo tengo Ma mi piace Ma sì non è male infatti Nuovo livello Bene Spero che i potenziamenti Lo faccia Rampart Ok carabina trova Che palle Che per il lombo Non c'è più l'irrigatura Minchia C'è che non c'è più l'irrigatura Proprio Ma per il lombo Era tanta roba Era così divertente Il mio bellissimo lombo Rovinato Minchia Emsal 28 Ems troppo forte Hai la build Gadget Usi quello che manda indietro E star power Non mi ricordo quali sono le star power Non quella che cura Ma l'altra Mi serve un caricatore Del tante esteso Che polla Oddio unit God Eh ci sta ma morta Ma siamo in streak? Si 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 siamo in streak da 3 Prendo i punti Madonna Olè dano da lui Dai lui è morto Io non sono Eh è ricordo a te perché lui è morto Prova a imbusciare qua Fagliela prendere Se la prendo Si si Sono di lombo puntato Ma non gli sparo Attenzione al nuovo leader Uccisioni Metà squadra è fuori gioco E metà ancora danni No sono scesi Si Replicatore in discesa Una benedizione degli dei Hanno fatto ziplane Sì vai 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 Vabbè io posso sparare da qua alla casa Collateral di cui uno noccato No me lo resta con Gibraltar subito Che fall Bolla Vabbè Si Si e loro non pushano Me lo fanno restare GG dai Top clown Ok Se avete il knock dentro la casa Lo fate restare Centro Cazzo lombo mi devo riabituare Alla caduta dei colpi Perché è cambiata Veramente tanto Cioè non cadono Quasi per nulla adesso E' strano Sparare di lombo Infatti è molto simile A quella del sentinel Allora la caduta del colpo Ma dov'è Uno di vita Merda Ma dove stava E' al carretto No Ah sulla porta del carretto Lo vedo Sì che mi rompe il cazzo Ma un team che non c'entra niente Ho cover dietro di me Da un'altra parte Eh non so Aspetta No 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 comunque No che non c'entra niente Deve non c'entra il cazzo Minchia Bisogna C'era addosso Eh No 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 Siamo già nel prossimo anello Abbiamo compagnia GG Secondo me lascia stare il rest C'è ci va lui al massimo Do qua per la top Beh Lui mi sa che non ci va Sì che l'hanno pushato di brutto Oddio Epicentro ci starebbe Sì Guarda pure no loot Sì faccio epicentro Lui non c'è modo di craftarlo qui vero? No Un medikit Quattro siring E un phoenix Quello potrebbe essere un problema Hai sentito la zipline? Sì sì l'ho sentito Hai baron per caso? No Fermi Quel medikit te lo lascio E uno lo prendo Sì Prendi quello più vicino a te Eh ma qua ci pusheranno C'hanno pure l'unica tua Perché tutti Potremmo entrare i larghi Quasi quasi vado a craftarmi Craftare qua dietro Non lui ovviamente Ah ma il tizio era andato a craftare Le orme stanno qui Era andato a fare qualcosa Craftare non lo so Va bene ma ormai è andato Come mi stanno sembrando le rank Vabbè per ora le sto giocando a platino Per il momento Assai chill Il problema sarà poi da diamante Da diamante in poi Con i fantastici six manner Non so se Prendere il baluno E entrare a piedi Entro a piedi Sì l'ho visto Usciva con la barba La foto col figlio Sì O sceno In prigione non aveva le lamir Non aveva il gilet fusion Pro slide Mi sto curando Ah ma è toccantare qui 30 secondi alla chiusura dell'anello Muoviamoci Non voglio essere abbruttolito Io potrei craftare lui Cazzo Sono a questa casa Ma top 5 tra poco Stanno fai tanto Dai la rischio per craftarlo Faccio il buon teammate Eh poi dove lo rassi? Non lo resto Versato lì Eh sì bella Con un full team Che mi spara Sì Ho pushato da full team No godo Scemo scemo Push in 3v1 Si fanno knockare Cringhe Però lo risponde a diretto Quindi Ah ma che ci muoio? No non ho cato Quello che ti ha fatto Ah Eh ma ha fatto il respawn però Mica se ci muoio Tutti godo all'infinito proprio Ti sentirei un attimo di vento No Che stupido Ah il Pathfinder Ah no non è vero Non è il Pathfinder che ho fatto Predo attuale è l'altro Quello che Li ha fatti interparty Beh In teoria Male male sti random Ma in verità Non vedo perché male male Visto che siamo in una streak Da 3 top 5 di fila con i random Ma lo sai perché udici Non sarei neanche Cazzo di nocati Male male sti random Minchia Più 400 in tre partite Molto male Random Goted Goto quel punto che ho preso sul path Era pure Diamond Quindi mi becco pure il bonus Quello scemotto Minchia Push col rampino Immagina Poi mi ha fightato in close Con l'Emblock Che cazzo fa Andiamo a esplorare laggiù È buona top 4 Eh Questo è un problema Ah Godo Edo non manca la presenza Di phase fabbricato Tranquillo Sì Che cazzo di HS ha beccato Oh no Oh no Ecco chi c'è Che peccato però Minchia Hanno preso un botto di knock Potevamo fare top 3 Beh Top 4 Meri top 5 Meri top 6 Sì 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 Beh 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 Il random non si è comportato male Purtroppo Quando è morto Vabbè Era difficile sopravvivere Easy Platino 1 Ci desse un teammate Platino 1 Questo cos'era? 2 Beh dai vabbè Platino 2 Minchia Cioè manco Manco a dire Platino 4 Con una leggenda Un po' più utile magari Eh minchia Octin Diciamo che poteva evitarlo Però vabbè Tutto sommato Siamo Strik 4 di 5 Momento ideale Per perderla Penso che tra oggi e ieri Non abbiamo mai fatto 5 di Strik Forse ieri Con i random Sì ci eravamo arrivati Sì ieri con i random L'abbiamo fatto Chissà quel random Come l'ha fatto il master Quale? Vabbè Octin Dai ci sta Che master era? Sarà stato master stagione 17 Come tipo 90% Dei master che si vedono Beh oggi abbiamo beccato Il random Che era master Stagione 12 E 17 Ha fatto 73 danni In tipo 3 fight Regolare Master season 12 E 17 Per forza Penso che preferirei Beccare un random Che mi flexa Un bellissimo badge Oro o platino Piuttosto che il master Stagione 12 E 17 Ecco il campione Vabbè da Almeno Secondo te Metteranno mai Le ranked solo? Eeeh 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 Non penso Arriva un team Sì va un team in fondo Sono due No Sono tre Ok Il terzo era Splittatissimo Tutto il piano sopra Zero armi Vabbè Cassa con l'arma garantita P20-20 Vale Sempre per te Avevo 99 di fin fesso Io 120 Insomma Mi sa che ci ha buttato Una partita a marcia Sì madonna La gombotta A raccogliere le cose Che non Non è da lui Drossa C'è Gigi Oh Oh Meno di un minuto L'anello Arnappi Eeeh Sono i punti Proprio lì Hanno Fai Uno è tornato indietro Solo che minca Con sto lag Beh Lui ne ha uno lì Sotto da lui Zio cancio Ho le carrozze di merda Non riesco Colpirli sarebbe Simpatico Sopra Eh ce li hai da te Sì Ce li avete Io non sono da voi Mi sa che faccio Vado Ci riesci Sono arrivato Uno lo ho fatto Sì lo so Uno è qua Mira puntata sulle scale Aspetta Oltre che devo prendere Perchè Tora Scania in ghiaccio Stanno usando l'oro L'altro L'altro Non l'hai scannato Eh Dio Aspetta Si appaccia da qua L'apri In quale universo Questo non è HS Dio caro Dai Dio buono No Come fa a non essere HS Sotto Zio Sono blu Eh No La verità è bianca Peccato che HS Le avrei lasciato Dieci di vita Le avremmo pushato L'altro Se per miracolo Si raffaccia lì Ci posso riprovare No Non lo farà mai Potrei andare io Da qua ad affacciarmi Novantuno Dai che forse lo fa Uno si è andato Oh 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 Ma uno solo è rimasto qua Tetto 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 Uno Fa il tp l'altro Ha fatto il tp per responare Sta responando Pusha 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 Sul tetto Io sono sul tetto Non lo vedo Ho lasciato 20 di vita La verità qua 20 di vita La verità al tp Qua dietro Si sta fullando Il suo appassi qualcuno Ok Madonna Trrrrimona Lasco 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 Ho il respawn beacon Però dobbiamo craftar Rimane metà delle squadre Ricarico gli scudi Un secondo Ho scelto il potenziamento Platine o diamanti questi Platine o platine Peccato Poteva aspettare lui Per prendere i punti Ma No Absolutely Cazzo Top 9 Abbiamo fatto un fight Io crafto e respawno qui Eccoci Non respawno qui No Mi curo Se no Mi pushano subito Beh L'ho già craftato lui Sì Peccato Ne ho tre di medikit Vabbè Il medikit non è un problema Il problema è dove entrare E che ho finito i colpi energy Ma hai intenzione di respawnarlo? No Io non lo farei Potrei craftare anche te Vabbè In che senso Insomma In che senso Come Cioè Nel senso Eh Non l'abbiamo fatta nemmeno stavolta La top 10 No Peccato Io vorrei capire come questo è arrivato pure i safe da questo lato Perché Vabbè Curioso Cioè scusami con zipline pure Com'è che mi è arrivato con zipline da quel lato Che stavo facendo un giro largo della madonna Ha sentito il mio dolore Forse Forse quando ho messo il balun Loro si sono allertati Sì ma zio porco Ok Ho capito Beh ma con la visuale Zio porco Ho fatto il giro di tutta la mappa Stavo a bel vedere Stavo Stavo a bel vedere Zio porco Cioè Chi erano Pat Loba eh No no E i Revenant Non avevano ricognitori Peccato Almeno confermare il pat Avrei goduto un botto Sempre i pat Come prima Pat Rampinano addosso Prendono sempre la ciola 20 bombe nelle solo Vediamo Scopriamo Se la pat Legittimamente o no Il Revenant di adesso Quanti danni aveva? 170 Easy Che giocatore A meno che non abbiate un'idea migliore E la sfida A via inizio Non sto più nella pelle Faccio con dust Eh io vado qua E ho la cassa mia E ho trovato Vabbè Zaino blu Not bad Che bossa che mi pinga la Attenzione Creazione in corso Vero got Ha capito tutto Prima di un minuto Mi serve un opac Temporazione Prima vittima Prima vittima A soglia Vero Sì 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 perché è andato oltre Qui c'è un alternator Ah beh lo abbiamo i punti anche Ok La carabina serve anche lui A me serve il flatline Quando la spit Aveva le pesanti Che stagione era Minchia Era Pino alla stagione Boh Per un botto di tempo Ma che stagione è che hanno dato le leggere alla spit Beh Tardi però Ora potrebbero essere andati qua Secondo me Eh vado a fare lo scan Eh ma secondo me sì Ora controllo No per ora no No è no loot Boh è il team più vicino Nooo No sì io non sono là C'è un caricatore energico esteso 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 È la mia preferita È la mia preferita Oh 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 Ma dove sta qui la casa No per niente No No Sì potremmo andare a punto di Qui lì vanno a punto di raccolta sicuro Quante batteriai? Del re Rimani con due Serva? No no Come ha preso quei danni? Lava Quanto devi essere stupido per prenderne 50 Di danni dalla lava per crossare scusa Cazzo ha fatto il giro tondo Cioè due hit posso capire Però minchia 50 danni dalla lava per crossare lì No too much Mi servono degli scudi Mi servono degli scudi Livello 3 Ma tutto quel giro per Per qua? No beh Così mi affaccio anche da miraggio a troie Hanno alzato le lunghezze dei balun No è questo tazzo Cioè questo balun qua è infinito È solamente questo Sono qui Qui c'è una batteria a scudo Non si sa mai G Ah no Uh aspetta Hanno messo un lift qui proprio Ma dai tutta sta parte è no loot Non vanno via Oh c'è tutta sta parte di qua Hanno loot Mi sa però che Sono andati a frana Mi sa Stile da quella parte È lontano Qui c'è un caricatore energetico esteso Livello 2 Sto controllando i dintorni Ma quel balun è più alto Penso perché sta zona della mappa È più bassa rispetto alle altre Perché c'è tutto il burrone qui Quindi se quel balun fosse stato Altezza normale Sarebbe stato inutile Non saresti arrivato Nemmeno qua Amo mine Amo mine Amo mine Eh là ci stanno i punti Ma hanno messo balun di otterrino Sì Qui c'è un ottica Distanza rappaginata Meglio di niente G G O O Non l'hanno ancora preso È uno È uno È uno È uno Ma io vado per i punti E se poi andiamo da collettore Spieghiamo anche quelli E diventiamo viola Senza spaitare Sto controllando i dintorni Facile I nemici sono andati da questa parte Non ha preso l'altro balun Vai passano per di qua E gli potrei prendere il balun io allora Se era da solo Mi sento rincoglionito Dio No è andato qui È andato Pensavo fosse di qua Niente Mi ha responato pure Cazzo Sifone pieno Eh appunto Sto vedendo anch'io Abbiamo un nuovo leader uccisito Vuol dire che arriveranno sicuro da qua Vabbè vado a prendere i punti davvero Sto creando un oggetto Un momento Eh sì Armor viola zero danni Let's go Forse O vanno dal Dal tunnel O vengono da me Non siamo troppo lontani dall'anello Ancora 10 secondi Nuovo livello Fantastico Vengono da me Forse le nocco Stai con l'anello 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 No no arrivo io Parco due Troppa paura Anche perché qua dobbiamo entrare Che è pieno di gente Da me è proprio Da me è pieno Cazzo Cazzo Un craccatolo Attaccati a me Sono morto Più il team che balona qua Più il team dietro che mi spara Gia Oh oh E questi arrivano a piedi Possiamo feitare questi dietro O gli altri sono vicini Gli altri sono lontani Sono a Capito on City Il problema è dopo Questi sono qua Evitiamo Evitiamo Scudi amplificati Successi assicurati Stati in un scuolo Sto ricarcando Sto ricarcando Sto ricarcando Controlliamo Quella zona Beh lui vuole spaitare Distrutto Craccato blu Si ma ora non abbiamo più Il balun Ce l'abbiamo il balun Grazie ragazzi Grazie ragazzi Termica termica Non ce l'ho Coglione termica Sgol 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 La tripla di Nico Eh dobbiamo andare Non è vero Da fuori safe Ma dai Corri Che cazzo C'è va un team Ancora con i safe Lì Ma no Perché si ferma a sparare Perché si ferma a sparare C'è a Bangalore Una smoke Ma ce la faceva Una smoke Dai Ma ce l'ha il boost Di velocità Se invece di fermarsi A sparare Correva Ah 60 danni 64 danni Let's go 20 bombe nelle solo 20 bombe nelle solo 64 danni 20 bombe nelle solo 20 bombe nelle solo 20 bombe 10.000 kill su Bangalore 64 danni Come l'ha fatte Le 20 bombe nelle solo Bah Bah Visto che Boh Io sparando col piede In un fight Faccio Più dei danni Che ha fatto lui In 15 minuti di partita Poi 64 danni Chissà L'avera fatti con l'ulti Quando l'ha tirata prima Probabile Cioè Ha pure tirato Dalla ulti Eh no Perché ha 0 punti 0 assist Quindi non li ha mai tati Ah quelli non li ha mai tati Ah ancora peggio Quindi i danni li ha fatti Boh adesso Io fava Penso di non aver beccato Un singolo random Con le 20 bombe nelle solo Che abbia fatto tipo Boh più di 100 danni L'altra volta Che ho beccato una roba Con le 20 bombe nelle solo Che io avevo 800 danni Lei 20 Niente paura Il sole illuminerà Il nostro cammino Si ha rubato bloody Riparati via Non è quella skin però Che master sono? 17, 18, 19 No E chi sono? 16, 17, 18 forse Come erano i campioni? Non ho visto i rank Sono jump master Ricordate E la sfida Via inizio Non sto più nella pelle E' bruttissimo No c'è No No Non sono bloody Perfetto Che ti metti Il nostro di primo No No Godo Era diamanti Era diamante Era diamante Ah E non sono dimetti Di prima Ah E manco me l'ho accorto così Cazzo no Si me l'ero Non me lo ricordavo Quindi era anche diamante Ha fatto 64 anni Beh mi sa che adesso L'ha fatti pure di meno Easy Ma non ho killato il terzo Ok Mi sa che ora di danni Ne ha fatti pure meno di 64 che ha fatto con noi Tieni l'energia Eh no Non mi servono Non mi servirebbero pesanti Odizio Qui c'è un'ottica Distanza ravvicinata Oh Mi serve trovare un'arma energy Che godura che ha bianchillato lui Cazzo gli sono arrivato da dietro Non si è girato Mi sa che il brother Non ha le cuffie C'è il triple Si lo prendo Si è freninato a cassa Cazzo Ricarico gli scudi Ricarico Sto controllando i dintorni Ricarico Altre salito C'ho la spitti senza mirino Vedo una sega Faccio zero danni Ogni sto fai Non ho angolo su nessua Questo fai Faccio zero danni No ti prego bro Sto controllando i dintorni Un campione Mi prendo qualche secondo Per ricaricare gli scudi Si fa Sono morto Questo di tutto Non ho fatto 18 danni all'altro Ah ne è no cat uno Ne è no cat uno lui Ma un HP No no Easy No minchia Dovevo aprire il drill Peccato 18 grossi danni all'hawk Zio porco Missione fallita Spitti senza mirino Esperienza orribile Vabbè Quello li sta prendendo tutti Quei colpi di sandia Perché cazzo Ho mollato l'alternator Che avevo allo start Ah se si salva Got totale Maduro No Si sono tornato in via Eh ma Ma che fa No no Ma che fa Ma trolla Ma perché Ma boh aveva tutto il tempo Per scappare Perché ha fatto questo avanti e indietro Ah tu non stai Non stai spettando Ok No ma ho visto Ah ok ok Pazzo totale Zio cane Uh buono Che craft anche te Best teammate Già il miglior random più ora Di gran luga Di danni e di kill Ha fatto più di Tutti i miei che abbiamo beccato in due ore Roba che spacca Ops Minchia Adesso fighto di nuovo come prima Con spicchi Così Sta male Caccio 18 danni Chi sta pushano Eh va bene Io ho tre partecipazioni No io c'ho Eh non posso vedere No io ne ho presi due Ah cazzo io ho due kill E una partecipazione Ah io l'ho fatto 149 Bianco il tizio No Oh ok posso sparare L'hanno ballurato Ho un'arma Ho un'arma che mi piaccia Ma che andiamo Come fate a giocarvi più di tre rank di fila Le pub sono ancora peggio quindi A sto punto Ti servono pesanti Ne ho un bel po' No no Tanto l'avoc Qua hanno messo un balloon Abbiamo fatto una top Nell'ultima partita Quale era l'ultima partita Bella che Quella con Con il tizio Che chieda All'inizio Ah sì è vero No era quella con Eh sì sì Con lui sì Il mister 67 danni Sono qua Mi timpero Sto scannando Oh da noi È splittato però C'è un team Sì sì Beh qua è pieno più che altro Anello in chiusura Tra 45 secondi Squadra Ma in fattistica Oh ce l'abbiamo altri vicini qua E prendo la cassa E prendo la cassa C'è Tanto E devo craftare E vorrei prendere i punti Che diventiamo Viola Quanto ti manca Tanto Mi sto ancora senza zaino Senza Pura Non gioco ad Apex Da quando hanno reworkato Revenant Vabbè Cos'è la stagione 17 18 Ho 16 No 18 Eh Questo è un guaio Segui il mio podcast Per saperne di più Mi stanno sparando Diamo una bella ricarica Ai tuoi scudi Da qua E pushano No ma c'è Mirage Capisco una sega Mi prendo qualche secondo Per ricaricare gli scudi Però Sembra che il Mirage arrivi Sì due sono là Ma il Mirage è a sinistra invece Mi sembra Perché l'ho visto buttare l'esca Infatti è qui È qui No è quello sotto È quello sotto È quello Eh l'ho pingato Ok E chi è che ha sparato all'altro Il Bloody Lui È subito Sì ok Non c'è Era abbastanza palese Che fosse un'esca Nel senso Sto controllando I dintorni Farsi Bambusolare In questo modo Arriveno da qua Sono morti Quelli che c'è anche i ladri allo staff Aramatura viola Questo male è il Bloody Sì 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 Eh non vedo la cassa E qua da me la vedo io C'è un Mirage Una Loba Ma andiamo verso la safe Un secondo Sì Ben Nel caso C'è un Balloon Però andiamo Che nelbo ratio Pezza Il culo Eh 30 secondi alla chiusura dell'anello muoviamoci non voglio essere abristolita rimane a metà delle squadre andiamo riesco a prendere i pochi gioca l'avoc top consiglio per migliorare mancano 10 secondi e l'anello è vicino miglior arma del gioco grazie in open 3 che crossano no eh qua ma stanno già rissando eh peccato ma è qua è qua è qua è qua uno l'ho crackato sopra di me eh sì perché hanno preso il tifi di asia che sfiga che sfiga che avevano alder per tornare su mi sciovo l'altro piede non posso stare fuori vabbè oramai stiamo qua vabbè oramai stiamo qua oh 120 0 pure io oh l'ultima battery eh se è l'ultima battery conviene per i tar eh ma come eh dove sono andato bene così eh boh tazzo ma conduit la gioco io e alter la gioco io quindi non si possono avere in contemporanea mi dovrei sdoppiare ho sette siringhe e una cella e tra le due è meglio conduit secondo me eh io c'ho due celle tutte le mie cure cioè siringhe non ne hai? zero siringhe due celle e un medikit sono le mie cure vieni mi prendo qualche secondo per ricaricare gli scusi marma eccoci lo sapevo io due celle ma lui non ha cure cioè eh lui mi ha dato due shell sto controllando l'aria è qualcosa eh si punta alla top 5 si punta alla top 5 e via c'è uno swap qui in casa va beh quelli hanno la safe non dovrebbero rompere andiamo da quella nemico individuato io resto top quali da qualità non muoversi effettivamente siamo nella letto adesso i nemici terranno verso il mondo ma porca troll eh niente voglio guardare il top che non salga loro che non salga loro ma salissero sti cazzi oddio ma c'è uno flash lì eh buono si goda si goda si goda si goda si goda abbiamo sopra o sotto 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 mi sembra sotto uno solo dentro però io sto guardando il top se sale anello in chiusura tra 45 secondi che non farà però lui sta scendendo eh c'è un'altra squadra abbiamo un'amplificata agli scudi mezzo minuto l'anello è vicino il team sopra sta messo da dio sul top sono salite no 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 il top è libero entrate nell'anello o vi ucciderò con le mie mani questi secondo me dovevano fai tardi si però ma che piano stanno adesso ma sono due ma non sono loro due no 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 qui c'è stata una battaglia e il mira c'è in duo mi sa che sono dentro in mezzo e questi li dobbiamo fightare ora uscendo e poi facciamo top 3 io ho un ulto li paytiamo mi butto mi butto li ho colpiti entrambi porco dio io sono ancora i ulti stanno fightando stanno fightando ma raga sopra 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 sono in tre però ne ho l'ultimo ne ho knockato uno no è l'ultimo uno v uno v uno buono buono è uno v uno in teoria Eh, mi eraci in ulti, però L'ha craccato? No, vabbè, dai Top 2 ci sta Già che abbiamo preso anche i punti su quelli sopra Cazzo, era andato sopra Ma comunque era la duo quella che ha vinto, quindi Sì, ha vinto la duo Ah, ma quindi quelli sopra che poi abbiamo ucciso Sono i figli di puttana che stavano al centro Cioè, erano andati dal centro Che cazzata hanno fatto? Cioè, scusa, al centro avevano la safe migliore di tutte E si sono messi Zeoporco a bordo safe sopra la casa nostra Per rompere il cazzo a noi Infatti sono arrivati i terzi Da che avevano la safe migliore e sono arrivati i terzi Molto bravo questo random Cioè, la safe migliore di tutti si sono messi su quel tetto del cazzo Boh, perché? Eh, il 222 Buono Oh, 27 da l'ora Eh, infatti che culo Ci è andata bene Mi chia, bloody Chop random Ah, sempre uguali Mi cozzo Cioè, no, sempre uguali No, da stagione scorsa Ma non sono mai una merda Strang No Il rank è più bella che abbiano mai fatto Sì No Il sistema che più si avvicina a season 13 Si perdeva un bel po' E si faceva il giusto Quello sì A me piace Cioè, il sistema migliore di sempre Però Cioè, l'unica cosa è che In effetti avevano detto Da stagione scorsa Rework Le kill valgono di più È una cazzata Perché alla fine L'importante è avere quelle 5-6 kill Cioè, quei 5-6 punti E poi conto solo Eh, ma almeno non c'è il fatto che ha 6 kill si farma Eh, quello è buono, infatti Sì, ma figa, quella è buono Ma fa rosicare ancora di più Zio Porf Eh, ho capito Insomma, no Perché se finisci con 20 kill Ma fai top 9 Fai più 20 Cioè, non fai tanto Beh, ci sta Il sistema delle ranked Deve avvicinarsi più possibilmente al competitive Eh, conta la posizione In un battle royale Non contano i kill E il kill contano su COD Eccola insignificante creatura Direi che possiamo atterrare qui È ricevuto Dove va il brother? Eh, non ho idea Edo Dipende un po' come vanno le partite Cioè, se adesso cacciamo una partita da più 300 Ho giocato fino al diamante Questa ultima partita è andata molto bene Vediamo It depends Ma cercando di capire se siamo solo Direi di sì Figlio di Troy Una bandroide al chanto Ah, meno male che non ho preso nessun bloody Perché C'ero di nuovo un teammate col bloody Minchia Beh, il bloody di prima Per fortuna che l'abbiamo beccato È stato molto bravo Avesse vinto Ancora di più Ma vincendo sarebbe stato effettivamente esagerato Rispetto a tutti gli altri Quindi È rimasto umile Dove stanno i punti? Lui sta andando a prendere lui Che droga Il mio loot Non mi ispira Vabbè, in verità Speedfire l'ombo Posso anche giocarlo Sto controllando l'area Questo sentiero conduce a Nelico Non coglieremo Sì, presa Sono vicini, no? Sto creando un oggetto Non ci vorrà molto Mi sa che stanno i pc entro Io sto andando a prendere il 24 Magari vado Ma un pelo più largo Secondo me stanno i pc entro G, oh, g, oh No, invece Minchia, stavano lontanissime Sto controllando i dintorni Non ci sono da quella parte Sappiamo cosa fare Qui c'è uno zaino Livello 2 Sono l'equipaggiamento E l'abilità A determinare quanto vali Qui c'è un cartofuore pesante e steso Livello 2 Vediamo Se trovo un avoc Non lo la spitti Eh Va bene Lo coglieremo di sorpresa Hanno restato Oh, cazzo Sono qua Da te proprio, eh O no Ma Non li sento Tutti due Ma Aspetta Mi sa che ho sentito te Ma non mi aspettavo Che tu fossili a destra Sciallo, sciallo Ma no, no Hanno outato Catalyst C'era già Ah, cazzo Stavo qui Minchia Quindi c'era veramente A me sembrava Di averli sentiti molto vicini Ah, sì, cazzo È vero Catalyst Ma allora era da sola Cioè, minchia È scappata così tanto Eh, vado No, te ne do Avevano restato a campo di ricerca Ma sì, gioca anche perché avevano aperto la porta della casetta al centro Tu non eri lì Cioè, la Catalyst l'ho proprio sentito uscire dalla casa Potrebbe farmi comodo Strano però Ok Bloody non l'aveva scannata E non c'era nessuno di così vicino G-A-G-A-C-A Siamo in streak Da uno Non so Stop streak Quanto ci dà quindi? Più dieci Dieci Forse è un knock Sì, si pushano in qua Confermato Stanno di me 120 blu Ricarico Sto controllando i turbanni Ricarico G-A-C Colpita Quakolori aveva allittato Ah, allittato Istrutta la conduit è one È one la mano Eh ma questi Altro team Altro team già arrivato Devi scappare Ma perché loro secondo me Hanno pushato così agro Perché pensavano che fossimo i due teammate Quelli che aveva noccato E minchia è pieno va Ha scannato Quattro persone E ce ne stanno altre due lì Almeno sei persone Secondo me hanno fatto sto push del cazzo agro con lift Perché pensavano fossimo i teammate Sennò non ho senso quello che hanno fatto Comunque stanno tre team in quel posto E non si sono ancora noccato Ah ora si Demolix e l'horizon Sì ok Che poi anche lì Il team di Raven anti-Octane che mi ha pushato Dove cazzo è arrivato Da IP centro Ecco questi sono loro Raven anti-Octane Dov'è che hanno sparato? Qua? Eh dove vanno Sì ok Mia abbiamo preso anche zero punti Manca spaccatura lavica c'è il crafting E respawn Ma no faccio craft e respawn qui Che cazzo vuoi? E ora te lo scrivo anch'io Eh Ora magari ci muori E lui ti dice Eh te l'avevo detto Di fare fast Madonna Spero ancora ti scriva Why you don't rats Rats Come il fuse di prima Why you don't rats Come era il nostro team Messimus Attenzione Panello in movimento Se loro vanno per conto alla rovescia Magari riesce a prendergli il balloon E andare dietro Spaccatura mirage Porco dio Non dirmi quello che devo fare Easy Ora io gli do manforte Aspetta Sì Ah pronunciation C'è una volta voglia di non restare Non rimaniamo qua Ma non Metto il balloon C'era quello della mappa Ed è anche più alto Vabbè questo ti butta male Sto prendendo un po' di sicuro per il track Spostiamoci qui Zero punti, top 12 Zero che? Zero punti, top 12 Tosta Tosta da risollevare Lo prendo io, slettone Lascio il volt con 100 volt Caricatore anche o no? Bianco Però dovrei trovare anche le ammo pesanti Ne ho 70 io Dammi ne 20 dai Qui ci sono munizioni pesanti Beh almeno tu hai la viola Troppo lenta sta partita Vorrei capire il perché Qualche six man In entrambi i posti coppingato Eh ancora la sinistra avanza Tocca andare di là Vabbè almeno What? Occhio Ma ti giuro ho colpito la base di Ocaro però Mannaggia il cazzo Ok siamo passati e l'abbiamo attirata prima Nel senso Oh in tutto ciò abbiamo anche la stradina dietro volendo Ma andiamo a rompere il cazzo con lì al ciò Andiamo Magari qualcuno torna pure Occhio le trappole qua Vabbè non c'è capito Ho visti un casino qua davanti Spero non siano i six man Qua dovremmo tankare un po' di don Che palle zero casse da lutare qua C'è gente da me E mi hanno visto E mi sa che torniamo indietro Torniamo indietro finché siamo in tempo E mi sa di sì Io non ho pure vita Cazzo mi serviva il turbo Vabbè Dori and boy Beh giro molto utile Mi ha servito a perdere 45 HP Quello che butta via la ulti Ci sta Ulti completamente gettata Ci arrivava tranquillamente Vabbè Ci siamo quasi Ci siamo vicini alla mezza E via siamo morti Qua davanti ci holdano Che partitaccia però Ma hai beccato un team là Ha un HP Moro di safe Oh la ritrovi qua La ritrovi qua Ha veramente un HP E non mi arriva Non la vedo Moro di safe Moro di safe Presi 170 da Vabbè Ci sembra che abbiamo fatto Questa quanta No Anzi Beh vabbè Vabbè 170 da anni Vabbè minchia Abbiamo fatto Cos'è l'unico fight Che abbiamo fatto Eh praticamente Sì Dai Facciamo L'ultima Facciamo Raiga diamante Diamante di Raiga Domani Diamante di Nico Da quanto siamo partiti oggi? Vabbè Se sta partita va bene Abbiamo fatto Praticamente Altri 800 punti Non male Eravamo partiti da metà Sì Metà Platino 2 Io ero Eh io ero partito da metà Plat No io ero a metà Platino 2 Cazzo dici? Sì Io ho fatto il Platino 1 ieri Ma che cazzo ne so Io Oggi ero partito da metà Platino 3 Sono arrivato a metà Platino 2 il pomeriggio E adesso Ah è vero È vero Ma tu intendi stasera Sì Se sta partita va bene Abbiamo fatto altri 800 punti Dopo gli 800 No No Che palle Niente Clodi Che palle Niente corvicini Platino 4 Diamante arena Master Si sono 17 Promette Che male La promette molto molto male Lo mette in modo pessimo Può essere a pezzita Dico l'ora l'ho portato una volta Il fatto di brawler Che ci gioco chillato a letto la mattina Quando mi sveglio E vale in fondo Sì Oh prima di andare a dormire Come farò dopo Pesante blu da me Qui c'è un caricatore pesante e steso Livello 2 Mi servirà Un'arma con un senso Teniamo sto l'uomo d'autosci Anello in chiusura tra un minuto Sono le vostre gas Sono già arrivati al centro No Peccato Con il vecchio radio se l'avrei noccato Mancano 30 secondi Ma l'anello è giusto Nuovo leader uccisione Loro cantano vittorie Noi gliele suoniamo Che Schif È lootato Le casse qua Sì C'è una luminità laggiù Mi stanno guardando Quale sono le proprie primari Rifornimenti extra da questa parte Come stavo? Mollum prever Mi hanno visto venire di qua Eh ma vicino Eh ma uno è fermo lì ancora Ricarico gli scudi Un secondi Non pushassero Ma hanno fiuso Dai C'è Dai Ma sono stati pushati No stanno fightando Raggiù Capsula assistenza in discesa Lancia una granata Occhi aperti Sì Hanno anche preso di knock One shot un bloody Ah io finiti colpi Energy Notte fire Ne è rimasto uno Top 1 rimasti Dov'è? E lo sento Qua in questa casa Siamo sicuri che sia uno Lasciamo il punto Tieni Non gli ho fatto niente Non gli ho fatto niente Vado carabino Mollo un botto di leggere E' biancia E' biancia Cerco flatline io E' c'è la c'è la cassa C'è la cassa del fuse C'è la cassa del fuse Che c'è la Ci tornerò Ci tornerò Come sto? Tutto bene? Tu come stai? Quanti nuovi maschi scammati Qui c'è un flatline Prenoto quella roba E' la mia preferita Un momento Sto creando qualcosa E' a sto punto Mi sa che il prossimo livello 100 Sarà il flatline E non il 99 Con il re demolito pochi Eeeh Tocca tornare al vecchio nome Infatti Potevi mettere su un business Con tutti Cerco Avok Era là dietro Con tutta la gente Che era convinta Che tu fossi una ragazza Potevi fare il business Di Kai E non so se lo sai Ma Kai Nel gruppo sub Un tempo Da quello che ho capito Dai racconti Si mise a scammare la gente Fingendosi una ragazza E chiedeva 10 euro Per giocare un'ora insieme E a quanto pare Più gente Cioè cascata Cazzo L'avesse fatto Biancia Nel periodo d'oro Che tutti erano convinti Fosse una ragazza I soldoni che tirava su I soldoni che tirava su Che peccato Nuovo leader Uccesione Guardatevi L'espalto Batteri come se va Terre Qui davanti fightamolo abbastanza Li sento Stanno andando i punti Da me Pazzo totale Ti prego Ti prego Non farti sentire Eh niente Un coglione Uh i dati flash 2 Vai via Cazzo ne avevo i dati Due flash Erano distrutti Non ci credo Non ci voglio E vado via Vado a craftare diretto Peccato cazzo Io sono andato Cazzo preso Due flash E io all'altro Fatto 183 Ma lui si fa confermare Zio porco Craftoteva Vaffanculo Ora che questo si sveglia Guarda Stavano verso i tarwe Che cazzo ci devo fare GG Che non ho voglia di rischiare Sono da lui No no Sto dicendo Che Ma sono da lui Quindi Signora Hanno smesso di Di rompere il cazzo Però non cagarlo Ma no Vado a epicentro Crafto e respawno a epicentro Posso respawnare anche te lì Andate biancia Ho due medici Tu un phoenix Sotto si ring Holdo un attimo Epicentro Però andiamo avanti Palle Tu hai hitato due flash E io ho fatto 183 al terzo Ah boi Avessi roccato quello Avremmo ho hitato poi Eh sì Peccato Io ho sparato un po' A cazzo di avoc In mezzo a tutti Ho beccato due flash Sì Ho fatto anche un botto di danni Tu hai fatto tipo 61 60 all'altro Non li prenderò Cazzo punto Era meglio Se la micraft aveva un medikit Che così Avrei avuto un medikit In più No Come si chiamano loro? Cioè sono quelli che fight Non li prenderò Non li prenderò No li prenderò Ah beh io ho gioco Cazzo, cazzo, support, tre batteri. Ok, vabbè, per carità. Speravo qualche... Bene. E io ho paura di trovarli qua. Posso mollarti le batteri qua dentro? Qui c'è un caricatore energetico esteso. Rivello due. Quante ne hai ora? Su due. Lui c'è recrattata, quindi c'è l'ha. Come neve a scuola. Ci siamo. Replicatore in discesa. Sincero, non so, so, lui voglio lasciare. Dagliene la sciuola. Quante ne ha? Eh, va bene, ha fatto una. Una craftata, adesso sei a due con questa. Peccato che c'avate, vorrei armi ben messo. Se cacciamo qualche top. Dei punticini li abbiamo. Eh, 55 mi servirebbero per il diamante. Beh, minchia. Cioè, mi sa, top 5 si fa. C'è, rio? Minchia, doppia di caustic. Poi, io sono messo da dio. Avvo che caricatore orish. 8-17, ci sono anche dei ratti. Da me. C'è un altro bersaglio da eliminare. Ultimo ratto. Mi sento solo il pat. È scappato. Era un pat che è scappato. Ci stanno tre ratti. Su 8 team. Laggiù c'è una capsula assistenza. Sì, madonna. Potrebbe essere spazio. È lui, è lui, è da sola. Ma che è stupido. Godo! È quello che è macchillato. Che sgu. Che stupido, ma perché mettersi a fightare me? È nel senso. È sì, ha anche un punticino in più. Ed è la diamante, questo. Sì, via. Quindi, punticino che vanno anche più. Io mi terrei da zona. Sì, infatti. Oddio, qua, 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 qua. Un 201. Dov'è che era il nocchio che ha preso? Uno di vita. C'è qui, è qui la massa. Gli ho fatto 28 solo. Ah, triplo di Raiga, dono. La tripla di Raiga. Stanno rispondendo qua. E loro avevano confermato uno. Eh, sta già rispondendo, ma con New Castle non c'è pick. E sono stati interpartati, sono stati pushati. Cioè, spera. No, non so. Eh, beh, minchia. O team mano. Cioè, o six men, o... Perché c'è un team carispunato e altri tre là davanti. Eh, skin verde e lifeline. Eh sì, allora sono six men questi, sì. Nice. Lifeline New Castle, sì. Eh, ma perché cazzo c'era il team carispunato e era loro in tre davanti? Cioè. Che palle. Let's go. Vabbè, il counter six men lo tengo a mente. Per ora siamo a tre. Infatti sembrava strano. Cazzo. New Castle che sta a rispawn con la tattica e poi altri tre davanti. Arrivati qua da me con ziplane. Ehm, questi... Bright presa, mano life. Eh, vado diretto allora. Sta avessando ora. Ciao, ciao. Preso la mecchi. Eh, via, via, via. Io da me sono sì. Vetti flash. Nice. Top 4. C'è il six men, in teoria. E un ratto, forse. Ah, la finita, la finita. Ah. No, non so six men, loro lo stanno faiutando. Sì. Respondono a sinistra. Se non sono six men, sono stupidi allora. Che non si sono beccati prima. Sono pushati lì, eh. Ma è lei da solo, è lei da solo. Il New Castle è da solo. È da solo il New Castle, sì, sì. E come cazzo lo push? Ah no, aspetta, è caricata, me l'ha distrutto. 75. 30. Va. Ah no, aspetta, in verità, le ulti delle leggende non me le mangio, credo. Sono buttati, sono buttati. Il Chaos è clear, one. Eh, lo so, ho fatto 23 il flash. Sono un coglione che in verità non me le mangio, le ulti. Il Chaos è che da guardare, è messo male. Deve crossare. Perché se quello mi gama, son morto io. Quasi crack. Quasi crack la Bangalore. Lui, 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 deve crossare, cazzo. Ma scusa, anche lei non è safe. C'è una Bangalore qua dietro. Eh, ma lui è quello che si deve spostare per primo. Ok. È un Chaos. Ce l'ho, ce l'ho, lo vedo. Sì, sì, lui lo sta guardando. 40 la Bangalore. Ma son due, mi sa, eh. Eh, è solo lei ora. No, no, sotto da me. Quasi crack, quasi crack. Io ho preso la vengola. Però fa, te lo fa. Mi riesco, eh, ho preso il punto anch'io almeno. Buono. Minchia, bella partita. Ho preso un botto. Quanto abbiamo? Tipo 9 punti, credo. Siete i campioni a... Speri voi. Cazzo, tu hai preso il bonus anche. Avrei fatto... 600, tipo. 550. Eh, beh, boia. 14... 14 di squadra. In 10 punticini più vittoria. Oh... Io ho fatto... Eh, boia. Io ho 312. 568. Boia. E... È qua tipo amante delle sfide. Uno solo, però. Quindi forse sì... Colpate lì. Eh. Boia. Dai, ne proviamo una diamante. Per la scienza. Proviamo una, ma... Sì, sì. Una perché ho detto che... Facevo il diamante... Offline. Ah, vabbè, vabbè. Sì, facciamo una come va va. Tanto per vedere come stanno a diamante. Maxezza. Prediction. Noi ci beccheremo il teammate. Platino 4. Vabbè, Lorenzo. Va bene. Borco, oddia. Mirage skin del battle pass. Questo è il tuo campione. Lascia il rap. Il teammate non promette bene. Predicto veramente un platino 4 io. Cazzo, Mirage skin del battle pass. Platino 2, 3 o 4. Platino qua, ma è regolare. Sì, ok. Ma che roba. Beh, però dai, forse è lobby platino almeno. Che rank può mai essere un Mirage con la skin del battle pass? Sono jump master. Questa è la parte... Questo è un ottimo punto per giocare... Sicuro non sopra il platino. Forse atterriamo qui, forse no. E saltare. Chiudete la bocca se non volete mangiare le mosche. Mi stai leggendo? No. No. Ho scritto, oh mio Dio, che matchmaking. Un diamante 4 con due platini, oh my god. Va bene. Abbiamo un team. Dì, dì. Lui se n'è andato. Siamo in due. Batte. Eh, Dio caro. Ma che cazzo fa. Che madonna, che busto di merda. Che madonna. Ora mi devo fermare per scrivergli, Dio buono. Ma che cazzo fa? Ma per quale motivo, cioè? Vabbè. Qual è il significato di questa giocata? Non siamo tutti nell'anello. È una mossa rischiosa. Io purtroppo in sta partita non leggo i messaggi. Nuovo leader uccisioni. Presto sarò io. Dio caro. Ranked Diamond e si back ultimate con Mirage, anche se è split all'end. Fantastico. Ho paura, ho paura di fightare tre viste. Anche se sarebbe stato proprio vinti un due di tre. La mia ultimate è brutta! Ma ha detto qualcosa? Ha scritto qualcosa? No, no, è vero. Mi ho scritto io che cazzo stai facendo. Guarda, mi sono spuntati i punti lì dietro. Ma facciamo l'ambush e i punti qua? Eh, beh sì, è lui. Ma chi se ne frega di voi, l'ambush in due si fa. Proviamo. Puoi metterti dietro... Ne hanno altri di punti a controllo termico, però, eh? Sì, sì, ma... Dai, gireranno di qua. Dove sono i punti che non li ho visti? Ah, ok. Questi. No, secondo me no. Più che altro vedranno anche che è lutato, dai. Se lui prende la cassa support... Diventiamo blu. Ma più che altro con lì c'hanno da usare un bot. E poi andranno a tutti i centri. No, non penso arrivare. Ma infatti non arriveranno mai, dai. Mi dà fastidio che ora... Cioè, io sono col... Con la mentalità che siamo in due. Eh beh, lo siamo in due. Che perdiamo i punti. Questo qua farà zero danni. Beh. Cazzo deve fare. E quindi entro nei fight... Da punti c'è anch'io. Mirage skin del battle. Passo due badge diamante e un badge master stagione 17. Sì, ok. Pazzo, si è lutato tutto per... Mi serve un caricatore energetico esteso. Trovo la carabina e ti lascio... Quello bianco. Ah. Poi... Beh, a trovare il loot è buono. Vabbè, però che li devo dire? Che li devo dire? Beh, se devo... Ha preso lui il viola, mi ha dato il suo dorato. Che a me non serve neanche, tra l'altro. Si voleva far perdonare. Sì, ok. Io luto meglio qua, perché non ho nemmeno uno zain. Io voglio trovare l'avo. G, G, oh, oh. Io la carabino. Grazie. Aldi non ha lootato qua in fondo. C'è stato, però. Mi è andato a prendere la cassa sapere. Che era lì. Carabina. Mica, top gameplay re anche, da tutti e tre spettati. Chiara mi sta usando, sto qua. Peggiori o pesanti. Uno ha tirato rush alto, quindi il 30-30, penso. O no, 300... G7. Vabbè. Rifornimenti estero da questa parte. Qui c'è un'ottica. Medio roido. A me sarebbero il caricatore energetico. Livello 2. Qui c'è un R301. Mi serve un caricatore energetico. E l'Avok anche. Soprattutto il caricatore energetico. L'energetico lo posso trovare. Di banco. Dove lascio la carabina, però. No, vabbè. Lo troverò. Ma dov'è il loot? Ah, è dentro. Ah, ma qua vabbè. È tutto uno loot, Kaiser. Mi sa. Avok trovato. Quindi il caricatore mi serve anche di meno. Perché tanto fa 10.000 pull. Avok senza caricatore. Quando fai piano. Maggiore di... Secondo me non trovo gente ora qua. No. Ma va. Sì, ok. Ho 6 batteri. Mi sa qua ce ne stava anche un altro. Esatto. Qui c'è una batteria a scudo. Se in tutto sto posto trovassi un caricatore, sarebbe bello. Qui c'è un'ottica. Distanza ravvicinata. Ma mi sa che è una challenge impossibile. Qui ci sono munizioni energetiche. La volevo pingare in altra batteria. Un'altra qua. Odiaz. A sto punto li piglio, cioè. No, non è vero. Ma piuttosto che tenere 300 energy. Beh, tocca fare il giro che fa lui. Sì, voglio vedere se c'è un caricatore. E prendere i punti. Ah, va assurdo. Cioè, non ho trovato caricatori energy in tutto geyser. Neanche uno bianco. Ho lootato tutto io. Vabbè, se viene a fare sto giro qua, lo vuoi prendere bianco. che lasciate qui. Non per me. Sì, ma ora arrivo. Voi lo prendere i punti. Vabbè, non faccio quel giro, arrivo da qua. Dovremmo andare lì. Forte, è chiaro. Ah, no, ma l'hai lasciato lì. Facciamo a pezzi qualcuno da quella parte. Ma va bianco. Due colpi, so. Eh, beh, minchia. Due colpi in più sul lavo. Se li becchi in HS sono 60 danni in più. Qui è da ruotare un'altra cosa buona. Proprio qui. Ma non è vero che è lì. C'è, c'è. Con due. Con l'estra imbusciosa. Guardalo. Pussi di merda, se ne va via. Sono in due. Madonna. Sono due? Almeno, sì. Io ho visto Pat e... No, non guardalo più nemmeno. No, non Pat. No. Eppure prima ho tenuto il lobo, non ci ho preso niente. Secondo me non è full team. Eh, magari sono due. Io ne ho visti due. Andiamo a fare 2v2? Non li vedo più. Dove sono? Sono qua, ora? Sono scappati malissimo. Alle casse qui, al Crafter. Giocano a Aston. Non bussano. Siamo letteralmente in due, però. Lo so. Un zip di sotto. Non so se è sceso, salito. Che fa? Attenzione, il campione è stato eliminato. Sono sceso. E questo sarebbe un campione. Usciranno qua a destra. E fightano qua? Fightano qua a destra. Potrei andare sopra. Gio, gio. Oh, oh. Sono lì alla montagna. Da me li vedo, li vedo. 410 al path. Aspetta, gli altri sono risaliti? No. Sono tutti qui sotto. Questa roba è la laser ora. No, è andata bene. Ma cosa vede? A te? Il path? Buono. Sale lì, sale lì. Inintegrato, 111, qua dietro. Ah, niente, niente. Non vedo niente. L'ho preso. Arriva lì. Ma? Che cazzo fa questo? Stanno risalto o l'altro da me? Stanno già risalto. Non ha risalto, non ha risalto. Cazzo, questo è Mirage? Ti prego, la carry, bro. La carry, brother. Ti hai noccato? L'altro non ha risalto ancora. Cioè, non l'aveva risalto quando l'ho visto. Quasi crack? Sì, sì, mi sa che l'ha restato. Vabbè, sì, era... No, 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 resta ora, resta ora. Ma altro team, altro team, altro team. È arrivato... Eh, ma ormai lui ha pushato. Cioè, ormai lui aveva pushato. Io non l'ho fatto niente. Passava da smoke. Vai, levati in caso. Rezio che ha fatto zero lada. Oh! Attenzione! È arrivata l'ascia. Senta, mi sono salvato non facendo un cazzo. Due volte è restato dal mire. Nasce, era teammate di Petraecolos. Boh, potrebbe essere. Questo fight ha fatto niente. Però ho preso i punti. Si gode. Qua è loot, se vuoi. Eh, mi serve ancora il caricatore Energy. Sto ancora senza. No, no, hanno tutti doppio usato. Che palle. Ops, scalatore. Scalatore, oh my god. Eh, a me servirebbero leggero. Voglio lootare... Il fight l'hai lootato? No. L'ha confermato lui che era qua. Nono, non l'ha confermato. Sì, sì. Ma scusa. Ha fatto la voice e l'ha inocchillato un tizio. Quindi penso l'abbiamo confermato. Ma scusa, tu hai... Cioè, io ho due assist, tu hai due kill. Ne dovresti avere tre. Eh, no, 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 perché... Oddio. Non mi so. Quindi mi stai dicendo che è vivo. Oh, non lo so. Vabbè, Ashe. Uno di vita. Non si cura, sta cercando di confermarmi. 158 viola lì dietro. E se lui ti ressasse... È lì dietro ancora? Sì, penso di sì, boh. E mi sta ressando. Sì, lo so, l'ho visto, l'ho visto. Perché? Ma che cazzo? Vabbè. Ma? Vabbè. L'ha preso lui. Quello non ha preso i 75 HP in più. Ah. No way, ha preso il potenziamento della ulti. Kring. Vabbè. Kring. Manca ha luttato una volta. Cazzo gli serve il power-up. Vabbè. Vabbè, vabbè. Si è pure rubato a chi sull'ascia. I don't care, dude. Si chiamava il blog. Ah, è mica hai visto se era leggera? Non ho visto. Comunque è una duo e un solo. Qui uno. Qui. Mi sembra. Si solo, si solo, si solo con lui. Si lo so. Però mi sa che è il solo. Gli faccio capire che sappiamo di lui. Dov'è quello che hai visto? Io l'ho visto che era qua dietro. Non so se ha crossato, cioè se è andato avanti. No, è lì ancora. Cazzo, armatura blu. Te lo fai? Armatura blu gli ho fatto 55 io. Si è fulloso. No, 50, 110. Ti ha arrestato? 110 gli ho fatto. Non ce lo facciamo rubare. Preso. Prodo, sono riuscito a prenderlo. Lì, 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 stanno entrando. E un team qua dentro. Ma un team qua dentro perché non guarda quegli altri coglioni dietro di loro? C'è il team sopra davanti a me anche. Ok. E poi gli altri due team li assistono. Ma un team è dentro al furgone. Si. Marla, marla, marla. Ma stile a destra ce l'hanno con noi, non so. Li pushano, li pushano. Ok. Quelle a destra li stanno pushando. Li hanno pushpati qua. Si allargano, eh. Possiamo andare. Possiamo andare. 110, red. 110 al rev. L'altro è sceso. Cioè, è solo il rev sopra. Però torna indietro anche Bangalore ora. Sta tornando indietro la Bangalore. One. Non ho capito. No. Eh, pep' inchiave. Cioè. Ha fatto Matrix. Sono tornati tutti, eh. Sono tutti lì. Peccato, cazzo. Era da allocare il rev. Ma quelli a sinistra sono ancora vivi. Nooo, che sfiga. Mi pusha. Mi son buttato sotto. Sto giocando sotto sotto io. Consiglio anche a te. Eh, lo so. Tira l'L1 a lui e veni da me. Deficiente, Cristo. No, no. Ci son buttati. Peccato per la tua temera. Eh, lo so, lo so. Eh, vabbè. Non benissimo lui. Quindi rush. Eh, vabbè, dai. Cazzo che almeno era da prendere la top 2. Cazzo, il team, l'altro team mi sa che la perde. Cioè, vince il team che abbiamo la sua team. Sì. Io spero che perda il team che ci ha pushato sotto. No, la vince, la vince. No, si stanno pullando, la vince. Non è nocato uno. Che pull. Due, eh. Oh, una cosa. Oh, no. Dai, 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 dai. No, no, no. No, non ce la fanno. Ma che pigia. Ma hanno rissato almeno gli altri. Non penso. Stanno rissando adesso. Eh, no, no. Dai, non... Cioè, se la perdono 3v2, greve, però. Cosa che secondo me succede. Ma non ce la fanno un carico. Oh, dai. Quindi io, non c'è. Bravi. Bravi, cazzo. Perché parto per loro questa vittoria in 3v2? Me l'hanno presa. Sì, come ho anch'io che l'abbiano. Allora. Almeno. Che sfiga per quel rev. Mannaggia. No. Perché mi dicevano... Ah, no. Ricompense prossimo livello. Pacchetto Apex. In sta partita mi ha dato... 3 amante delle sfide. Su, 5 punti che avevo. Quindi, sì. Ma secondo me, da diamante 4 non cambiano troppo le lobby. Secondo me, da diamante 3 in su cambiano veramente tanto. Da diamante 4... No. Però... Buono. Really cute. Quindi vuol dire mille... 1100 punti, tipo, abbiamo fatto. In teoria. Devo liberare l'account. Sì, sì. 1100 punti. Easy. Bella. Bella, 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 bella. 1100 punti. Domani mi mancano 100 punti al diamante. Direi bene. Si può andare a fare un paio di... Un paio di cose. Un paio di rank con Mr. P. Su Brawl Stars. Dai, l'ho fatto... L'ho fatto livello 7. Quindi devo portarlo rank 20. Devo fare tutti i rank 20. Purtroppo ho i miei... Umili 40 brawler. Quindi... Fare coppe è dura. Cioè... Buona pushata, grazie, grazie. Eh, vorrei... Perché adesso c'ho che voglio arrivare alle 20k d'account, poi voglio iniziare a pushare a rank 30 la gente. Cioè adesso c'ho Nita che è rank 28, che... Non l'ho più fatta a rank 30 perché mi ero fermato per le mutazioni che mi stavano sul cazzo tantissimo. Adesso le mutazioni le hanno tolte, quindi potrei riniziare a pushare Nita al 30. Poi c'ho Angelo. Angelo un po' me ne pento perché l'ho fatto solamente a 700 coppe, ma non l'ho giocato. E... C'avevo la mutazione, cazzo. Angelo con la mutazione è maxato. Faccio ancora anche 30 in un'ora probabilmente. Però vabbè. Si farà. Tanto penso che anche senza mutazione non ci siano così tanti problemi a fare Angelo al 30. Ciao Fefe. Buono. Buonanotte, le mutazioni sono odiosissime. Infatti godo che siano andate via. Cioè mi sono rotto il cazzo che magari volevo giocare in a mod, c'erano le mutazioni, io le evitavo. Volevo giocare rapina, su rapina stavano le mutazioni. Non giocavo rapina. Buono. Buonanotte a tutti. Ci si vede domani. Domani devo vedere se pomeriggio sera entrambi cosa fare. Sicuramente la sera. Direi che sicuramente si fa il diamante. Perché mancano 130 punti. Probabilmente anche diamante 3. Perché le lobby diamante 4 non sembrano niente di che. Poi vediamo come butta. Da diamante 3 in poi diventa divertente. Da diamante 3 in poi bisognerà rimettere il counter a Six Men. Grazie a tutti.